Cantine Ferrari, un'edizione limitata da Pole Position Presentata a Milano in occasione del Gran Premio di Monza, la speciale Cuvée Blanc de Blancs che celebra quattro Gran Premi di grande appeal del campionato di Formula 1 di cui la casa trentina è brindisi ufficiale Siamo orgogliosi di essere il brindisi ufficiale della Formula 1 Questa partnership tra Ferrari 30 e Formula 1 sta andando benissimo a livello internazionale e abbiamo deciso di celebrarla con il lancio di una limited edition di Ferrari È una bottiglia di Ferrari 30 Doc Blanc de Blanc speciale che abbiamo voluto dedicare a quattro Gran Premi iconici La presentiamo oggi perché siamo alla vigilia del Gran Premio d'Italia e quindi il primo Gran Premio è sicuramente Monza e poi anche Silverstone, Sochi e Suzuka quindi quattro bottiglie da collezionare per collezionisti appassionati della Formula 1 di vino e del nostro Ferrari 30 Questa nello specifico è la bottiglia dedicata al Gran Premi d'Italia di Monza vedete che proprio sull'etichetta c'è l'immagine del circuito il nome di questa limited edition che è appunto F1 limited edition È un Trento Doc, è un solo chardonnay quindi un Blanc de Blanc creato con uve chardonnay coltivate sui monti del Trentino fra l'altro quelle stesse uve che proprio in questo momento stiamo vendemmiando perché oltre che essere in pieno Salone del Mobile alla vigilia del Gran Premio di Monza siamo per noi in piena vendemmia in un momento particolarmente significativo per le nostre cantine Grazie a tutti Grazie a tutti.